La società contemporanea sfida continuamente la Chiesa a rileggere sempre più in profondità il sacramento del matrimonio. Di questo si è parlato a Bologna nell'ambito di una due giorni di studio in preparazione al prossimo sinodo sulla famiglia. Si tratta di un'esperienza ecclesiale e universale, ha detto Monsignor Jean Lefit, segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia, riferendosi proprio all'imminente sinodo e che deve tener conto delle differenti problematiche sulla famiglia presenti nelle diverse aree geografiche e culturali. Una problematica è comune a tutti e di percepire la realtà misterica del sacramento del matrimonio, del sacramento dell'amore umano, perché questo risale non solo alla creazione ma anche alla natura sacramentale dell'amore umano tra un uomo e una donna. L'elemento fondamentale è la speranza. Quando due giovani si desiderano sposare fanno un atto di speranza. È come una scommessa per il futuro. Credono nel futuro, dimostrano di avere veramente fede nel futuro. Si impegnano, si impegnano per sempre. L'abbandono del matrimonio, la moltiplicazione delle unioni di qualsiasi tipo, natura, e la convivenza, per esempio, prolungata, segna invece una mancanza di speranza. Al convegno di studio bolognese è intervenuto anche Monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma e presidente della Commissione CEI per la Famiglia e la Vita. In Italia godiamo di una lunga riflessione sul matrimonio e sulla famiglia, anche di una vicinanza del popolo italiano al valore della famiglia, della coniugalità, al valore anche della maternità. Temi che storicamente sono presenti, ma che hanno bisogno di essere fortemente ripresi, rivisitati e direi anche rivalutati e rivitalizzati. Siamo quindi in una fase di delicato passaggio, dove da un lato bisogna chiarire cosa è il matrimonio, dall'altro bisogna offrire tutta una serie di contenuti che le giovani generazioni da un lato attendono, ma che non vedono chiaramente davanti a loro.